Buongiorno, io sono Teresa, mi chiamo Teresa e sono un'operatrice del centro Narkonon. Lavoro da quasi due anni in questo centro e contemporaneamente ho un figlio che da pochi mesi ha terminato il programma Narkonon perché aveva problemi di tossicodipendenza. Quindi da dieci anni mio figlio faceva uso di sostanze stupefacenti e ha provato tutte le sostanze possibili e immaginabili. E noi in quanto genitori, tanto io e tanto mio marito, abbiamo cercato in tutti i modi di liberarlo, cercare di aiutarlo. Ci siamo rivolti a psicologi, ci siamo rivolti a psichiatri, abbiamo fatto uso quindi anche di psicofarmaci, abbiamo cercato di aiutarlo anche con metodi abbastanza forti, cacciandolo di casa e anche denunciandolo. Il mio figlio è riuscito ad uscire dalla sua tossicodipendenza facendo il programma Narkonon. Io lavoro da due anni qui, quindi mi sono resa conto del programma, della validità del programma e sempre di più si concretizzava in me la volontà di portare il mio figlio qua dentro, nonostante il mio figlio fosse assolutamente, non avesse nessuna intenzione di uscire dalla sua tossicodipendenza. Ci sono riuscita, sette mesi fa l'ho portato qui dentro. L'ho portato qui dentro e il mio figlio da un mese ha finito il programma. Io vedevo che ogni giorno mio figlio cambiava e con lui cambiamo anch'io perché ovviamente lo vedevo un'altra volta che mio figlio cominciava a sorridere e è ritornato a vivere e con lui anche noi perché ovviamente i genitori vivono per i figli. stanno bene i figli e stiamo bene anche noi, giorno per giorno vedevo sempre meglio. È arrivato che pesava 64 kg ed è un ragazzo di un metro quasi 80, ed è uscito dal centro dopo il programma, 78 kg. 78 kg di vitalità, di gioia di vivere. Ed è un miracolo perché il programma è valido. Il programma non solo è valido, ma il programma ti consente proprio di riprenderti la vita in mano. E non solo per quanto riguarda i ragazzi che comunque lo fanno, ma anche i genitori stessi, non la famiglia. La famiglia che ritorna a sorridere, che ritorna a gioire, ritorna veramente ad essere quella che non era più da tanti anni. Noi con mio figlio abbiamo toccato il comodo, anche noi, e adesso stiamo pian piano rivivendo con entusiasmo e con gioia di vivere i suoi progressi e quindi stiamo veramente bene. Io dico veramente grazie al programma e non non lo dico tanto per dire, ma perché l'ho vissuto sulla mia pelle. So la sofferenza, so come un genitore veramente sta male con un figlio, con un tossico, con un figlio che ti fa uso l'insieme. Grazie al programma.